E' sicuramente uno degli appuntamenti più apprezzati e partecipati, quello che propone ogni anno, Monbaroccio con E' Natale, i mercatini natalizi. Un'edizione ricca di appuntamenti ed eventi nei sette giorni di festa che accoglieranno i tanti turisti nella calda atmosfera del centro storico, a partire dalle novità per i più piccoli, con uno spazio dedicato all'infermieria di Babbo Natale. Quest'anno abbiamo cercato di dare un po' un'immagine diversa, chi comunque viene tutti gli anni, Monbaroccio è affezionato e può comunque trovare nuove sorprese. Ma il concetto di restyling è stato preso anche nelle varie location all'interno del paese, dalla pasticceria di Babbo Natale, le magiche atmosfere di Palazzo del Monte. La nostra manifestazione è molto incentrata per i bambini e abbiamo dedicato lo spazio del teatro comunale appositamente per questi spettacoli. Una manifestazione che in pochi anni ha visto un crescente successo con migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia, grazie al grande lavoro dei 200 volontari della Proloco locale. Suggestive atmosfere, copiose e nevicate, mercatini natalizi e sfilata del presepe vivente sono alcuni dei tanti appuntamenti in programma per le giornate del 2, 3, 8, 9, 10, 16 e 17 dicembre. Per noi l'artigianato di qualità è importantissimo. Ogni anno cerchiamo sempre di più di selezionare quello che è l'artigianato di qualità e i prodotti di qualità perché rendono proprio bello il nostro borgo ma soprattutto perché vogliamo valorizzare i nostri prodotti, il nostro artigianato e per noi è veramente importante puntare anche su quella che è l'organizzazione un po' generale perché vede un gruppo di volontari che lavorano intensamente e soprattutto la grande collaborazione che c'è a livello provinciale tra le varie realtà che aderiscono al progetto del Natale che non ti aspetti. Quindi venite a visitare i nostri mercatini ma soprattutto abbiamo dato una dimostrazione che avendo prenotazioni dal nord Italia cominciamo a diventare concorrenziali a quelli che sono i mercatini più famosi e più importanti del nostro nord Italia. L'appuntamento dunque è per sabato 2 dicembre con il taglio del nastro per dare il via a E' Natale, Monbaroccio in festa. Il mercatino di Natale è di suo, vuoi per l'ambientazione, vuoi per il periodo stesso che è particolare, vuoi per quello che è Monbaroccio già di suo riesce a dare quel qualcosa in più che naturalmente si differenzia positivamente rispetto ad altre realtà che sono simili quindi siamo nel periodo natalizio.